un messaggio che viene dal cuore per un messaggio d'amore davvero speciale occorrono tratto marcolla tratto 1 grip colla glitter giotto cartoncino colla giotto vinilic prendete un cartoncino rettangolare colorato con le penne tratto 1 grip colorate scrivete una lettera d'amore o un messaggio particolare dall'altro lato con i marcatori tratto marcolle disegnate tanti cuori colorati ora piegate un angolo formando un triangolo piegate nell'altra direzione poi piegatelo per metà formando un rettangolo spingete all'interno le pieghe ripetete le pieghe per l'altra metà del foglio sollevate gli angoli e ripiegateli nel lato opposto ripetetelo per tutti e quattro gli triangoli a questo punto aprite con il dito il triangolo sollevatelo e ripiegatelo per formare un quadrato ripetetelo per tutti i quattro triangoli ripiegate verso l'interno gli angoli dei quadrati con il dito aprite la piega e rischiacciatela ora piegate verso l'interno l'angolo superiore ripiegate verso l'interno anche i due angoli laterali con le forbici ritagliate delle lunghe strisce di cartoncino decoratele con nitratto mark hole e con la colla giotto glitter quando la colla è asciutta avvolgete le strisce attorno al dito e create dei rotolini tirate i due lembi del cartoncino per ottenere dei nastri colorati con la colla giotto vinilic fissate i nastri sul cuore aggiungete qualche dettaglio con la colla glitter ed ecco pronto il vostro messaggio d'amore